Ciao! Cosa significa fiat? E come esprimiamo il nostro fiat in nostra vita? Questo sì alle situazioni non volute. Può essere questa malattia, può essere morte che arriva, può essere un esame che non abbiamo fatto e dobbiamo cambiare la situazione e non c'è possibilità ancora e ancora provare qualche situazione dispiacente di ogni giorno. A noi diciamo per questo sì e riceviamo e troviamo la via attraverso questo sì per questa situazione molto molto più profonda, nelle regioni che non sono accessibili senza questo sì, perché altrimenti combattiamo sempre contro qualcosa che non possiamo, non vogliamo, non possiamo cambiare. Possiamo dare consapevole uno sì e scendere come Maria in una situazione che apre a lei proprio una via probabilmente migliore che l'uomo può scegliere. Grazie!